Eccoci qui, un saluto a tutti come state ben ritrovati da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube. Vi invito come sempre a commentare numerosi, a lasciare un like e iscrivervi in questa zona, attivate la campanella, mi raccomando. Arriviamo presto a 93.000 iscritti, puntiamo i 100. Chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano. Chi non si iscrive ha tifato Materazzi, ha tifato Nicola Berti, Ruben Sosa, Lukaku, mi raccomando. Vediamo quanti rossoneri doc, è gratuito, vi aspettiamo. Colgo l'occasione anche per consigliarvi di scaricare gratuitamente l'app di OneFootball, l'app numero 1 per le amanti di Milan, con tutte le notizie esclusive, live, calcio mercato, gli highlights da vedere ovunque voi siate. È gratuita, è sponsor tra l'altro del Milan. La potete scaricare gratuitamente dal link che vi metto qui sotto nella descrizione. Basta cliccare andare, in 30 secondi l'avete scaricata gratuitamente e potete tornare qui. Io vi aspetto. OneFootball gratuita, sponsor del Milan. Sosteniamo chi ci sostiene, chi contribuisce, speriamo anche una campagna acquisti degna di nota. Allora, abbiamo una serie di notizie. Partiamo subito però con il rispondere a un po' di domande, la consueta rubrica Milano lo risponde. Ne avete fatte quasi 100, quindi dobbiamo scremare un po'. Però nel frattempo vediamo anche un po' di notizie e di feedback dalla società. E anche vediamo qualcosa di nuovo sul mercato. Savero, io penso che sia positivo che l'allenatore abbia più voce in capitolo per il calcio mercato. In linea teorica direi di sì, in linea di pratica anche, nel senso che poi lui prende giocatori o contribuisce a prendere giocatori che poi hai la garanzia che fa giocare, cosa che quest'anno purtroppo non è accaduta. Pensi che la figura di Ibra possa essere d'aiuto come collante, squadra, società, sia anche per attirare giocatori forti sul mercato? Sì, sì. Sì, ma al momento non è una pista facilmente percorribile per volontà di Ibra. Poi, vediamo ancora. Perché pur che sia stato un top del Milan non si vuole accettare che Maldini abbia un carattere out-out? Quale di essere il panorama italiano porterebbe un upgrade del Milan secondo te? È vero che Maldini ha un carattere particolare, l'abbiamo sempre detto, ecco. Su questo ovviamente non ci nascondiamo. DS, ma mi sembra una figura che verrà affidata a Moncada, che possa non essere anche contemplati in questo tipo di organigramma. Sicuramente anche Maldini ha avuto il suo carattere complicato, non era facile collaborare con lui. Un'estate senza stress, eccetera. Ora possiamo vivere in questi anni di rinascita. Eh, Marco, questa estate anche questa è un po' turbolenta, spero la prossima. Poi ancora, vediamo tanti messaggi. Se Pioli ha più potere decisionale per quanto riguarda il calcio mercato, ci potrebbe essere qualche possibilità in più per SMS? Allora, e poi ti risulta che Maldini volesse Pioli, sostituire Pioli con Pirlo? Me l'hanno detto da più parti, anche dal mio stesso. Adesso io continuo a faticare a crederci, sinceramente. Per quanto riguarda Pioli, sicuramente col fatto che lui ha più voce in capitolo, ci sono più possibilità. Non sono facili, per quanto riguarda Sergei Milinkovic-Savic, ma se lui potesse scegliere un giocatore, il primo che prenderebbe sarebbe sicuramente Milinkovic-Savic, che, ripetiamo, oggi non ha mercato all'estero. In Italia, lui era nel vino della Juve, che adesso è più sovrattesi, ci penserebbe l'Inter, ma non è facile. Per quello che il Milan abbia il dovere di pensarci, e il fatto che Pioli avrà più potere, mi lascia pensare che qualche speranzella in più ci sia, ma non voglio illudere nessuno, soprattutto in questo momento, in cui notizie concrete su Milinkovic-Savic non ne abbiamo, se no suggestioni, se non suggestioni piacevoli. E' intrigante. Però, rispondendo, ti direi che sicuramente ci sono più possibilità. Di Moncada mi fido ciecamente di ciecarlo, poi però vorrebbe Ibra. Cessioni, ne ha parlato appunto anche lo stesso Scaroni. Big ci dicono che non vogliono cederli. Di Big in questa fase, in questa sessione, non vogliono cederli, poi è chiaro che dipende molto dal tipo di offerte che trovi. Pioli aveva detto che servivano giocatori topi, che avrebbero dovuto avere più arbitrio, in queste scelte. Io penso che Pioli fosse a conoscenza del Pianoli Cardinale. Cosa ne dici? Direi di sì. Direi assolutamente di sì al Colto. Quindi se ne parlava, perché aveva cognizione di causa. Ancora il mal di pancia dei giocatori è superato, ragazzi, poi si va avanti. Qualcuno propone Albertini, che sicuramente ha avuto anche i ruoli istituzionali. Io vorrei Ambrosini. Poi ancora, Pogliani, del licenziamento di Maldini, ci è rimasto molto male. Molto, molto, molto male. Come tantissimi, ecco. Daniel Maldini verrà ceduto o viaggerà ancora in prestito? È una bella domanda. Daniel credo che possa... Sicuramente non sarà al Milano il prossimo anno. O sarà ancora in prestito, oppure andrà ceduto. Dipende molto anche dalla sua volontà. Ricordiamo che la gente è Beppe Riso, ma chiaramente il papà ha delle influenze. Pietro venderebbe Mignan a cifre folli. Con i ricavati delle sessioni di Rebic, Orighi, Salemac e Messias de Chetelare. Prenderebbe Vicario. Poi, se va via Mignan, Vicario è un nome intelligente. Però preferirei tenermi a qualsiasi cifra Mignan. Anche se la logica ti direbbe, poi ti rifai la squadra. Secondo te, Pioli, potrà reggere una pressione eurole del genere? Io ho dei grossi dubbi. Dice Sebastiano, io con te. Non lo vedo avere il physique du role per fare il manager all'anglo-sassone. Poi, ancora, Tare si è proposto, ma il Milan dice no. Ma Moncada sa che esistono altre nazioni, oltre al Belgio e alla Francia. Sì, però sono dei mercati, diciamo così, che si possono raggiungere a prezzi competitivi. Poi ancora, vediamo, Box2Box che vuole più aiuto l'anno scorso, chi potrebbe essere? Non sarà Loftus-Cheek. Mi piacerebbe molto Frattesi, ma in questo momento in pole c'è la Juventus. E Mininkovic mi piacerebbe terribilmente. E mi piacerebbe molto anche a Mister Pioli. Però, al momento, ripeto, è una suggestione. Kakà, come colui che prenderà il posto dei collanti della squadra su città, non credo che abbia Matteo in questo momento voglia di fare quel tipo di ruolo. Kakà. Berardi no, anche se era il paleno di Pioli, però a 29 anni Milano non va a investire su questo giocatore. Perché non mandare via il preparatore atletico? Al momento non ci sono queste situazioni. Sicuramente si sta studiando per non commettere più certi errori. E poi, vediamo ancora... Adri perché non è mai pervenuto? Perché Pioli l'aveva bocciato già a settembre. La pista a Zia c'è tramontata. Mi piace tantissimo. È tramontata. Potrebbe anche rinascere, ma dalle indicazioni che abbiamo, il Milan si sta muovendo su profili di giocatori decisamente diversi. Al Chelsea si parla con il Chelsea di Pulisic e di Cukue Meca per il centrocampo. La differenza tra Cukuec e Brian Diaz per me è il livello quello e il prezzo pure. Allora, Brian Diaz è una sottopunta che faceva al trequartista. Un po' adattato, un po' sacrificato rispetto a quello che chiede Pioli lì. Cukuec è invece un esterno che fa l'esterno. Fa quello di mestiere, lo fa secondo me molto bene. Sono due ruoli diversi. Capisco la tua obiezione, però per quanto mi riguarda Cukuec, sulla destra ci può far fare davvero un salto di qualità, che Brahim non sempre è riuscito a farci fare sulla trequarti. Poi... Poi, poi, poi... Se non viene Turam, viene qualcun altro. Sei tranquilla, Misa. Poi, ancora... Il silenzio di Pioli dopo l'eccezziamento di Maldini, come lo interpreti, non andavano più d'accordo, ok? Ma non credi che sia pericoloso e controproducente un suo non ringraziamento? Saluto per Paolo. Poi hanno fatto quel pranzo forte dei Marmi, con invito del mister. Diciamo che è un silenzio assordante, barra un po' imbarazzato, se vogliamo. Ne parlerà comunque, secondo me, a breve in un'intervista sulla Rosea. E poi... Adria e De Chetelare sono entrambi sul mercato. Adria sicuramente andrà via, ma il che vada in prestito, De Chetelare dipende molto dal mercato che avrà dopo o durante l'Europeo Under 21, che è una vetrina. Poi ancora, come attaccante, ragazzi, se non è Turam, c'è l'ipotesi Scamacca, ma io spero in una Moncadatta e Ligan. Moncadatta però non da 5-6 milioni, da 25-30 milioni. Uai, Valogun. Spero in un'operazione di quel tipo. E poi ancora, io spero Emilico Vissavic, però ho sentito che lo vorrebbe la Juve, in realtà la Juve adesso è più su altri profili, avendo anche Pogba, vuole frattesi. E poi... Ancora, nuovo video con il possibile nuovo Milan, arriverà, arriverà. Magari ci iniziamo a lavorare in questi giorni con qualche notizia in più. Poi vi dico dal Milan che cosa mi è stato detto ieri, perché ho ricevuto una telefonata, ecco. Io voglio un Zola, dice Cesare, potrebbe andare alla Fiorentina. Io sinceramente vedo in Zola quel classico giocatore che fa il salto in una grande e si perde. Non lo vedo da grande squadra, eh. Con il massimo rispetto per il parere di tutti e per Zola stesso. Proseguendo poi, con Diaz non abbiamo guadagnato nulla. Su Baldanzi ci siamo, è una delle opzioni per completare se va via De Ketelare oltre ad Adli. Poi ancora... Qualcuno molto depresso. E Pulisi c'è una pista fattibile? Sì, è una pista fattibile. Però c'è il problema un po' legato all'ingaggio. Mina deve far quadrare un po' tutto. L'addio di Maldini è il finito sogno di diventare una grande squadra e di conseguenza di vincere l'Europa. Rocco, secondo me, eri un po' scottato a caldo, però... dispiace tanto, ma... si può e si deve andare avanti. C'è un nome nuovo, o meglio, un ritorno di fiamma per il Milan. È la soffiata. Quello di Lazar Samarzic. 21 anni, nato a Berlino, ma a Serbo. Classe 2002. Alto 1,84. Trequartista dell'Udinese con cui ho incontrato Scarenza nel 2026. Cinque gol e quattro assist quest'anno in Serie A, avendo giocato però appena il 54% dei minuti. Una rete ogni 370 minuti. Giocatore che dopo aver fatto la trafila delle under in Germania, è andato nella Nazionale Serba in cui ha già esordito. Lo scorso anno ha fatto due gol e due assist. Giocatore che è tornato nel mirino del Milan. È tornato perché, insomma, lui ha avuto un percorso un po' particolare. Precedentemente, nell'Ipsia, il Milan aveva provato a prenderlo. Lui aveva voluto fare però un percorso intermedio. Era andato poi alla... Cioè, il Milan voleva prenderlo prima ancora, quando era allerta. Lui però è andato all'Ipsia come percorso intermedio, in un campionato intermedio. Poi è andato all'Udinese. Maldini aveva parlato con lui e con la famiglia, con segnalazione di Moncada. E in quel momento il giocatore aveva detto no, preferisco non rischiare di bruciarmi. Ora piace di nuovo molto al Milan, proprio perché appunto anche con Moncada c'erano apprezzamenti in tempi non sospetti. Lui è un giocatore che è apprezzato perché viene ritenuto un possibile crack a 21 anni. È un giocatore che ha possibilità di giocare solo a tre quarti, ha possibilità di essere impiegato anche un po' più indietro. È quel centrocampista, tuttocampista, che era un po', se vogliamo, Ciananoglu, con caratteristiche non esattamente identiche. E il Milan ha rilacciato i contatti con i suoi entourage, ha iniziato a fare le prime chiacchierate pure con l'Udinese. Nel gioco delle coppie vi dicevo, Kamada e, a oggi vi direi, o Baldanzi o Samaric, se va via però, con Adli, Brahim è andato, anche De Ketelare. Però attenzione, perché il profilo di Samaric ci si è apprezzato perché potrebbe fare anche un po' il vice Ben Nasserre, potrebbe essere impiegato dietro con Sandrino Nostratonali ed essere molto duttile, anche, ripeto, utilizzato dietro. Va detto che l'Udinese lo può far partire, non sempre ha giocato titolare quest'anno, ripeto, la metà delle gare, e accetta anche delle contropartite. In questo caso, attenzione alla pista Daniel Maldini, attenzione anche alla pista Gabbia, attenzione alla pista Caldara, che però nei primi discorsi non sembra avere apprezzamento da parte dell'Udinese. Volevo far vedere però qualcos'altro per dare qualche indicazione in più su Samaric, che per me è un gran bel giocatore di pallone e può davvero arrivare a livelli molto alti. Quest'anno, in Serie A, ecco qui la sua mappa di calore, ha giocato un po' ovunque, prevalentemente però sul centro-destra. Giocatore interessante, con cui si è fatto più di una chiacchierata attraverso la gente e anche per i primi discorsi, appunto, l'Udinese, che vorrebbe Pobega, ma il Milan ha detto no, Pobega non si muove dal Milan. Per quanto riguarda poi la telefonata che ho ricevuto ieri, perché insomma a Milanello viene seguito, anche gli articoli che scrivo un po' nei vari siti, dicevo se però continuo a sfumare obiettivi, qui insomma non è il massimo. È stato detto che comunque bisogna avere fiducia, calma, io provo a trasmettervela, perché siamo soltanto a inizio mercato e il Milan sta lavorando lacrimente, intensamente, perché è consapevole che bisogna regalare ai tifosi una squadra, una campagna acquisti degna di nota, soprattutto perché questo sarà il biglietto da visita del nuovo corso. Quindi loro sono consapevoli del vostro malumore generale e sono al lavoro per cercare di superarlo. Quindi calma, calma e fiducia. Questo è quello che prova a trasmettervi che arriva dalla società. E un'altra cosa che circola che mi è arrivata appunto è che tra i tanti nomi che sono usciti, ecco, non tutti sono concreti, spesso sono figli anche di di notizie messe in gira d'arte dall'entourage dei vari giocatori che hanno interesse ad accostare il loro assistito al Milan perché aumenti il valore, perché se ne parli, perché stimoli attenzione. Questo è quello che vi dovevo e ognuno poi, a ognuno la propria conclusione. Samariz a me piace molto. Mi piace terribilmente che Baldanzi, sinceramente non saprei scegliere. L'importante è che ne arrivi uno dei due. Chi preferireste, commentate qui sotto, iscrivetevi in questa zona, attivate la campanella, numerosissimi, chi non si iscrive ti fa Inter, Inter. Forza milanisti, avanti, è gratuito, un abbraccio.